La segheria è del russo? Il russo la vuole chiudere! No, non è vero! Messi mi ha detto che il russo vuole solo un guardiano! Ho saputo che la segheria non va bene? Eh no, non va bene infatti no! Volevo dirti che mi dispiace! Grazie! Lui lavora alla segheria con Adi e Bogdan e voleva sapere se anche tu hai voglia di lavorare lì con loro! Che ci fa qui chiudere? Lavoro alla segheria come controllore di seghe! Sta scherzando? No! E che cazzo vuol dire? Allora significa che controllerà che Adi e Bogdan non si fanno le seghe! Ehm! PERCHE MADONASSATO! FATINGvey Novecent parisades Faccio partire la segheria? Sì? Speriamo bene. E però se diventi sordo... Non senti più rumore? Io non voglio diventare sordo! Ma non diventi sordo, chiudere! Io non voglio diventare sordo! Io non voglio diventare sordo! Chiudere! Chiudere! Grazie a tutti